Cara a me stessa tredicenne. Cara a me tredicenne. Ciao, Iuleri, tredici anni. Cara a me quattro tredicenne. Sono te fra due anni e sì, sono bionda. Non so se mi riconosci, io sono te, ma è tre anni dopo. Fermati un attimo, chiudi gli occhi, respira, cerca di capire qual è veramente la cosa che ti spaventa. Ora, riflettici un attimo. Non è la decisione da prendere, è il non sapere cosa ci sarà dopo, è il non essere sicura di farcela. C'è dell'indecisione, ma è giusto che sia così. So che l'idea di passare dalle medie alle superiori un po' ti spaventa. Sarò in grado di affrontare tutto lo studio che ci sarà, quale sarà la scuola migliore per me, farò una buona scelta. I prof non sono stati molto utili con il loro orientamento perché ti hanno detto solo quello che pensavano volessi sentirti dire e non ti hanno dato un vero aiuto. Vorresti seguire le tue amiche, ma allo stesso tempo sai che devi prendere una decisione e la devi prendere per te stessa. La scelta tra un liceo linguistico e un istituto tecnico è sicuramente difficile, soprattutto perché a 13 anni non sappiamo bene cosa vogliamo. E pensa anche a cosa vorresti fare in futuro. Se hai già le idee chiare, allora scegli la scuola che più si avvicina al tuo futuro. In più tutti ti stanno dicendo che dovresti fare un liceo, ma tu non ti senti pronta o hai paura di non essere portata. Quindi il mio consiglio è scegli il liceo linguistico, non solo sulla base delle passioni che hai adesso, perché ti assicuro che con il passare del tempo cambierai tanto. Studiare tre lingue ti piacerà un sacco. Ma ricordati che con il liceo linguistico dovrai studiare molte materie scientifiche, umanistiche e soprattutto il tedesco. Ma sai anche che se farei questa scelta le tue giornate saranno completamente diverse da quelle avute finora. Lo studio sarà molto e i sacrifici anche. Se ti spaventa il latino invece ti accorgerai che è il più spaventoso lo spessore del dizionario. E inoltre le tue paure nel parlare una lingua straniera saranno alleviate durante le ore di matrilingua, l'inglese, francese e tedesco. Che il nostro liceo mette a disposizione attività di scambi culturali e viaggi all'estero. Nonostante il liceo ti metta davanti quotidianamente difficoltà, riuscirai a superarle senza problemi. Guardami, sono arrivata in terza e posso solo dirti che farai passi da giganti e che la tua scelta sia stata la migliore che tu abbia mai preso. Dopo tutte queste considerazioni ricorda di scegliere quello che piace a te senza farti influenzare dal pensiero degli altri o dalla scuola che vuole fare la tua migliore amica. Quindi pensaci bene. Grazie a tutti.